Salgono ancora i nuovi contagi. L'ultimo bollettino parla di 24.935 nuove infezioni, quasi 2.000 in più rispetto a ieri. Sale pure il tasso di positività che si attesta al 7%. Continua la progressiva pressione sugli ospedali e soprattutto sulle terapie intensive. Al momento sono 3.333 i pazienti gravi ricoverati in questi reparti. Resta alto anche se in leggero calo il numero dei decessi 423 nelle ultime 24 ore. Intanto nella battaglia contro il coronavirus, oltre ai vaccini, entrano in campo ufficialmente anche gli anticorpi monoclonali. Al momento il farmaco anti-covid è più promettente ed efficace anche contro le varianti. Finora la statistica parla chiaro. Tre pazienti su quattro curati con questa terapia sono guariti. In Italia la sperimentazione era iniziata alcuni mesi fa, ma adesso, dopo il Via Libera da parte dell'AIFA, al loro utilizzo nelle situazioni più complicate, il commissario all'emergenza, il generale Figliuolo, ha dato l'ok all'acquisto di una partita di 150.000 dosi. Il costo non è indifferente, 100 milioni di euro, ma la loro efficacia ne giustifica la spesa. L'Agenzia Italiana del Farmaco e anche il Ministero della Salute ha autorizzato per il momento due farmaci, compreso quello della Svizzera Roche, utilizzato dall'ex presidente americano Trump, per curarsi contro il coronavirus. Basterà una sola infusione e sono già stati distribuiti in diversi ospedali italiani per curare principalmente i pazienti più gravi, ultra-sessantenni, allo stadio iniziale della malattia.